Trasferte in Calabria per l'eurodeputato Morisano Aldo Patriciello, giunto a Villa San Giovanni per premiare il merito, l'eccellenza e la qualità di 21 imprese calabresi. Un evento che è rientrato nel convegno sul tema l'economia della cultura, a cui hanno partecipato, oltre all'organizzatrice Angelina Attina, anche vari esponenti politici di rilievo locale e nazionale. Davanti ad un folto pubblico, con tanti giovani, è risultato particolarmente gradito l'intervento dell'eurodeputato Patriciello, anche in qualità di membro della Commissione Europea sull'Industria, Ricerca ed Energia. Discorso imperniato sull'importanza di concetti quali ricerca, cultura ed eccellenza, da cui non solo la Calabria ma tutto il centro-sud Italia devono partire, asserito l'eurodeputato, e che potranno rappresentare un ottimo punto di partenza per dare anche nuovo slancio al commercio da e verso i territori extraeuropei. Le nuove tecnologie, unitamente ai fondi predisposti dal nuovo programma Quadro dell'Europa, ha detto Patriciello, non potranno far altro che spingere l'imprenditorialità del nostro mezzogiorno verso altri territori del Mediterraneo. Per tale motivo quindi, per l'eurodeputato molisano, è necessario difendere la competitività delle industrie nazionali, soprattutto meridionali, investendo in ricerca, creando una strategia di anticipazione e non di inseguimento. Solo così, ha concluso Patriciello, otterremo un vero e forte rilancio delle nostre economie. Nel tardo pomeriggio, poi, l'eurodeputato molisano sarà gioiosa ionica per partecipare ad un altro convegno dal titolo Idee, proposte e progetti per lo sviluppo della zona ionica regina.